In questo video partiremo dalla base che abbiamo preparato nel video scorso e andremo a modellare il corpo del nostro drone. A questo punto siamo pronti per cominciare la nostra modellazione e ora non dobbiamo fare altro che cominciare piano piano a dare al nostro pesce drone la forma che vogliamo, aggiungendo man mano i loop che servono. Se ci fate caso io ho anche esportato la griglia della mesh e quindi vedete anche di quanti loop avrete bisogno per dare questa forma alla vostra mesh. Ovviamente non è una cosa che dovete seguire in maniera ossessiva però è sempre un elemento di guida in più che potrebbe esservi utile. Se ci mettiamo in vista frontale vediamo che la nostra mesh ha questa forma a goccia, quindi quello che faremo è cercare di dare questa forma alla nostra mesh. Possiamo cominciare intanto aggiungendo qualche altro loop. Premiamo CTRL R e cominciamo con un loop laterale visto che sul lato abbiamo poca geometria. E adesso che abbiamo qualche vertice in più possiamo anche cominciare a spostarli per cercare di dargli una forma un po' più simile a quello che vediamo nella reference. Quindi spostiamo con la centrale e anche questo qua davanti tiriamolo un po' più giù. Come anche quelli sotto che andrebbero tirati un po' più su. Ovviamente questo significa anche che le dobbiamo sistemare da davanti. Perché ricordiamoci che la forma del nostro drone, se guardiamo anche da su, è tonda. Quindi non tutti i loop devono essere allineati tra loro, anzi non dovrebbero assolutamente essere allineati tra loro. Quindi noi anche questo lo tiriamo un po' su. E anche con quelli dietro facciamo la stessa cosa. E anzi, in realtà quelli dietro devono essere molto su. Perché comunque a un certo punto formano questa parte qui. Che è molto piccola e molto stretta. Quindi l'idea è quella di magari cominciare con questi loop qua. E poi vediamo che una volta che vediamo che per continuare diciamo a controllare bene la nostra forna abbiamo bisogno di altri loop sicuramente. E a quel punto li possiamo anche aggiungere. Intanto andiamo avanti e continuiamo a cercare di raggiungere una forma a goccia. Attivo questo loop centrale, io lo tirerei un po' più in là. Così abbiamo una forma un po' più a goccia. Ok. Questo invece, vediamo di lato come si vede. Ok. E a questo punto io direi che possiamo cominciare ad aggiungere dei nuovi loop. Io ne aggiungerei uno qua. Per aggiungere i nuovi loop utilizziamo la funzione CTRL R. Questo praticamente ci dà l'anteprima di dove si troverà il loop. Quindi in un primo momento possiamo scegliere in che punto metterlo. Dopodiché, se clicchiamo col sinistro per confermare, ci comincia a dare l'anteprima di a che altezza tra i due vertici esterni posizionarlo. Se lo vogliamo posizionare a una certa altezza, mettiamolo dove lo vogliamo e poi clicchiamo col sinistro per confermare, altrimenti semplicemente lo lasciamo libero e clicchiamo col tasto destro del mouse. In questo modo ce lo posiziona automaticamente al centro. Ok. Ogni volta che aggiungiamo un loop nuovo, chiaramente possiamo cominciare a sistemare un po' tutta la faccenda. Anche qui magari. lo tiriamo un po' più indietro. Anche questo si può tirare un po' più indietro. Ok. E anche qui io aggiungerei un altro loop. Ok, cerchiamo di non ossessionarci solo con un lato solo. Alla fine parliamo sempre di un oggetto tridimensionale, quindi switchiamo spesso da un lato all'altro, in modo da essere sicuri che, insomma, sta andando bene la cosa. Se la trasparenza dell'X-Ray vi confonde le idee e non riuscite a capire quali sono le parti dietro, quali sono le parti davanti, questo vi manda un po' in confusione, semplicemente potete o disattivare l'X-Ray, oppure qui, aprendo il menu, semplicemente tirare un po' su la trasparenza. Io di solito con l'X-Ray lavoro con la trasparenza tirata su, ma in realtà giù, disattivata, diciamo al massimo. Qua è molto trasparente, qua invece è non trasparente per niente. In questo modo, quando la trasparenza è così, i punti e gli edge che sono davanti li vedete un po' più apachi rispetto a quelli dietro e quindi così si capisce un po' meglio quali sono quelli davanti e quali sono quelli dietro. In questo modo non confondo i punti che stanno davanti con quelli dietro, però allo stesso tempo, se voglio, li posso selezionare tutti a mio piacimento. Insomma, detto ciò, possiamo andare anche avanti con la modellazione. E anche qui vediamo che forse qua in mezzo è arrivata l'ora di aggiungere il nostro prossimo loop, quindi lo aggiungiamo. Vediamo che effetto ha fatto di lato. Ok, non è male. Allora, in questo caso la nostra mesh ha coperto la nostra reference, quindi forse è il caso di andare, uscire dall'edit mode e portare la nostra reference un po' più avanti in modo che ce l'abbiamo più davanti. Perfetto. Selezioniamo di nuovo la mesh. Le reference, se avete paura di selezionarle per sbaglio mentre invece volete modellare o spostarle per sbaglio, cose del genere, basta che andate all'interno di questo menu qua, nell'outliner, selezionate queste consiglina qui, la attivate, vedete adesso ce l'avete attiva, e ora semplicemente la disattivate per il gruppo delle references e ora adesso non sono più capace a selezionarlo. E quando clicco seleziono semplicemente il corpo del drone e questa è una funzione molto utile in questo caso. Ovviamente se poi le volete riselezionare, basta che riattivate questa iconcina qui. Se l'argomento delle collections e cose del genere vi interessa particolarmente, vi suggerisco di dare un'occhiata al nostro video sulle collections, dove si spiegano tutte le funzioni editate, questi tastini e tutti i modi per poter sfruttare al meglio le collections. Comunque andiamo avanti, torniamo nell'edit mode e continuiamo a lavorare sulla forma del nostro pescetto. Allora noi qua abbiamo il naso, quindi considerate che questi punti qui, cioè essendo il naso stondato, questo tra l'altro lo possiamo vedere da sopra, questi punti qui dovrebbero essere più in avanti rispetto a questi altri punti. Quindi questi magari tiriamoli un po' più indietro. Ok, e a questo punto possiamo cominciare ad aggiungere un altro paio di loop. Aggiungiamone alcuni di fronte, perché la forma di fronte mi sembra quella che è un po' più da sistemare, quella che magari ha bisogno di un po' più di geometria. Però magari prima di farlo, la parte di lato la cambiamo un pochino. Ok, e noi vediamo che abbiamo tutta questa parte qui che fondamentalmente è senza loop e invece dovremmo averne perlomeno uno o anche due in realtà. E quindi noi di nuovo facciamo Ctrl R e per aggiungere due loop, una volta che abbiamo confermato il posizionamento del nostro loop, vediamo che qui abbiamo un menu. Questo è il menu che compare ogni volta che facciamo un'operazione e che è specifico per ogni operazione diversa. Nel nostro caso abbiamo il menu per l'operazione loop cut and slide e abbiamo la possibilità qui di sistemare in un secondo momento il numero di loop, per esempio, e anche la posizione di questi loop. E insomma, tutte queste cose interessanti, anche la smuttezza della forma. Ma per esempio, visto che abbiamo una forma a goccia, possiamo cercare di renderla un po' più smooth in partenza, questa cosa. Ok, una volta fatto, rimettiamoci a sistemare un attimo tutte queste cose. Tra l'altro, il fatto che le immagini delle reference abbiano anche la griglia vi può anche aiutare a seguire un pochino la posizione o il flow, quantomeno. Considerate comunque che qua i sono smuttati, quindi la posizione non è precisa però comunque sia potrebbe esservi d'aiuto per raggiungere la forma più simile possibile a quello che dovrebbe avere, diciamo, il dronino originale. Ok. Qua, visto che qua sopra abbiamo aggiunto altri loop, questo lo possiamo tirare giù. Se vogliamo tirare giù il nostro, un vertice del nostro drone, ma non lo vogliamo spostare sull'asse x, y, z o liberamente, possiamo farlo scivolare lungo l'edge già presenze e limitando così la deformazione della mesh. Quindi per esempio qua, io premo due volte G e vedete, questo fa scivolare il mio punto lungo gli edge. Se lo tiro di qua, lo fa scivolare lungo l'edge che sta verso destra. Se lo tiro giù, lo fa scivolare lungo l'edge che sta giù e io lo faccio scivolare lungo l'edge che sta giù. Visto che abbiamo tanti loop nella parte sopra, i loop più centrali li possiamo anche rilassare un po' e farli andare un po' più verso il centro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Piccola pausa. Vi ricordo che se volete fare qualcosa di più avanzato una volta che avete finito con questa serie e magari allo stesso tempo sostenere questo canale, sappiate che io ho anche realizzato un corso sulla creazione di questo modello qui che vedete sul vostro schermo. Anche questo è un drone, però ha delle forme molto più complesse. In questo corso vi farò vedere le tecniche che utilizzo per arrivare a un risultato del genere non solo dal punto di vista della modellazione ma anche dal punto di vista del texturing, texture painting. Infine vi faccio vedere anche come esportare sia il modello che le texture in modo che siano totalmente utilizzabili non solo all'interno di Blender ma anche in un qualsiasi altro software. Il corso lo trovate sia su Udemy che su Gumroad. Se lo prendete su Gumroad utilizzate il codice sconto Popolo20 per avere uno sconto del 20%. Bene, detto questo possiamo tornare al nostro video. Questa assolutamente la bisogna rimpicciolire e una cosa che vediamo anche è che praticamente sull'asse sulla quale si trova questi punti non sono più allineati. Evidentemente noi durante la modellazione li abbiamo un po' toccati, cioè noi. quando dico noi intendo io, li abbiamo un po' sminchiati a cacchio di cani. Però non è un problema perché per sistemare questa cosa basta premere Scale, selezionare l'asse sulla quale vogliamo allineare i nostri punti. Io per esempio seleziono l'asse Y e poi selezionare il valore 0. Ecco qua che adesso sono di nuovo tutti allineati. Io a questo punto riposiziono un attimo tutta la faccenda e la scalo sull'asse Z. In questo modo abbiamo più o meno questa cosa qui. Prima però di fare un qualsiasi altra mossa con quest'altra parte qui, io direi di aggiungere un altro loop, magari spostando questo qua un po' più in là. Ok, e contro l'R aggiungiamo un altro loop da questa parte in modo da favorire una forma un po' più che abbia un po' più cambiamento. Siccome qua c'è parecchio contrasto tra la pancia che sporge e invece questa parte che va subito su, è un loop in più sicuramente da queste parti. Non è una cosa che ci dà fastidio. Una cosa che vi consiglio comunque è cercare di mantenere una continuità tra i diversi loop. Evitate cose tipo, che ne so, così. È bruttissimo, sicuramente questo risulterà poi in delle zone irregolari sulla superficie. Quindi è quello a cui di solito io punto, mantenere più fluidità possibile a livello di larghezza, a livello di continuità tra loop. Tipo qua, vedete, deve essere tondino, non deve essere dritto. Quindi se abbiamo deciso di optare per delle forme tonde, stiate attenti che ogni loop deve avere una forma più tonda. e se c'è un vertice che spuca fuori così, voi cercate magari di sistemarlo in qualche modo. Ok, dopo che vi ho rotto le scatole su questa cosa, allora vedete per esempio questo va su a caso totalmente. Tipo qua, io vorrei una forma più tondetta. Direi che più o meno ci siamo, forse questa parte qui va tirata un pochino più su, ok? E questa invece un pochino più giù. Quindi anche questa parte. Ok, ci siamo più o meno. Sistemiamo un po' di qua. Comunque io ho questa cosa che dico sempre che ci siamo, però alla fine non è vero, quindi quando lo dico non vi evitate mai. Ok, qui vediamo che c'è una piccola incongruenza tra la vista front e la vista laterale. Vediamo che l'altezza non combacia proprio perfettamente. Non è per forza necessario rimodificarla, basta ricordarci di questa cosa. Visto che qua la vista front e la vista di dietro combaciano, a questo punto siccome l'unica vista che è fuori scala è la top, a questo punto riattiviamo la selezionabilità e la scagliamo un pochino. Scagliamo un po' questa. Ricordiamoci chiaramente di tenere premuto shift. Ok, ci siamo. Quindi possiamo ribloccare questo e andare un po' avanti con la nostra modellazione. A questo punto io direi che la forma generale del corpo mi soddisfa, quindi c'è rimasta solo una cosa da fare, e cioè da rendere quest'altro nostro loop, magari questi li tiriamo un po' più giù, ok, rendere quest'altro nostro loop dritto, perché se noi nascondiamo un attimo la mesh, vediamo che qui la forma non è tonda come nelle altre zone del nostro corpo, ma è dritta. Questa parte è molto dritta. Per ottenere questo risultato avremo bisogno di creare dei loop di supporto da queste parti. Però prima di farlo assicuriamoci che la parte dietro ha una forma, cioè la forma che vogliamo, infatti non ce l'ha, quindi intanto prima di procedere sistemiamo un attimo la forma qua dietro. Anche questa ha una forma non più a goccia come le altre parti, ma è più diciamo comunque tonda, più tipo forma di diamante o che cacchio ne so come si chiama una forma del genere. Comunque qualcosa di simile, però non quadrettata come ce l'avevamo di base, quindi stiamo attenti a questo. Sistemiamo un po' le cose da queste parti. Ok, per il momento va bene così. Per vedere un po' meglio come uscirà poi fuori il risultato, è sicuramente il caso, prima di tutto, di tirarlo indietro a sto coso. Dopodiché aggiungiamo un altro loop di qua, quindi di nuovo controllo R sulla vista di lato e aggiungiamo quest'altro loop. Non deve essere troppo vicino. Già vediamo che qui l'angolo viene più rafforzato, e quindi noi che facciamo? Finiamo di sistemare un po' questa forma. Quindi a me va bene così. Quindi io seleziono tutti questi vertici e poi faccio una cosa che praticamente questa operazione si chiama insert face. Qua noi abbiamo una serie di facce e in questa operazione mi permette di inserire una nuova faccia su questa superficie, che però non necessariamente è un'unica faccia, ma dipende chiaramente da quanti vertici ho qui. Probabilmente mi inserirà una faccia composta da altre facce. Comunque faccio prima a farvelo vedere che a spiegarlo. Per utilizzare questa operazione clicco I sulla tastiera, ecco qua, e vediamo più o meno come funziona la cosa. Ora, una volta che ho scelto la distanza, io clicco per confermare e come al solito a me qua mi esce fuori il menu di questa azione. E io qui faccio una semplice cosa, deseleziono l'opzione boundary, perché che fa quest'opzione? Fondamentalmente mi considera questa mesh, che è a metà, come una mesh completa e quindi ha il margine, cioè considera anche la parte centrale come una cosa a cui aggiungere il margine. E invece io questa se la deseleziono, la parte centrale invece questa la considera come un qualcosa che il margine non ce lo deve avere. E questo è molto comodo quando si utilizza il mirror. In questo punto possiamo eventualmente sistemare ancora un po' la nostra mesh. Se vogliamo possiamo anche... Allora questa dovrebbe avere una forma un po' più. Questa volta quando spostiamo dei loop, questi due spostiamoli sempre insieme, perché sono strettamente collegati tra loro. Se vediamo che magari questo loop e questi non sono più dritti tra loro, come per esempio in questo caso, possiamo sia sistemare la cosa a mano oppure possiamo anche dissolvere questo loop. Facciamo dissolve edges e rifarlo di nuovo semplicemente con ctrl-r. Ok. Ok. Posso anche definirmi piuttosto soddisfatta della forma del mio pescetto. Magari diamo un'altra occhiata utilizzando le references per capire se ci sono punti da modificare o roba del genere. Quindi diamo un'occhiata alla vista front. Vista side. Forse questa parte qui andrebbe tirata un po' più in là. Comunque se vedete che i loop della reference e i loop di quello che avete modellato non combaciano, però la forma c'è, c'è sti cavoli di stare lì a farli combaciare, parliamoci chiaro, eh. Controlliamo anche da sopra. Ok, da sopra vedo che la pancia da questa parte è un po' troppo larga verso l'esterno, quindi forse è il caso di tirarla più verso dentro. Ok, anche questa parte qui, forse. Ok, e poi diamo un'occhiata in generale alla forma anche senza references. Vediamo se ci piace. Io direi proprio di sì. A questo punto abbiamo il corpo che è pronto e quindi direi che l'unica cosa che c'è rimasta qui da fare è tornare in Object Mode, andare su Object e selezionare l'opzione Shade Smooth. In questo modo, quando vediamo il nostro coso suddiviso, vediamo che non è proprio quadrettoso come lo vedevamo prima. e se vogliamo possiamo anche aumentare un po' le suddivisioni. Ok, forse c'è una cosa che non mi piace e cioè il modo in cui si passano tra loro queste parti qui. Qua la parte è troppo densa e qua invece è troppo... C'è una certa irregolarità nella forma, dovrebbe essere più a goccia e i loop dovrebbero essere più distribuiti. Sistemate anche questi vertici qui che io me ne sono accorta dopo e l'ho sistemato in un secondo momento. Vanno tirati un pochino verso l'esterno. Ok, adesso mi sembra che vada un po' meglio. A questo punto possiamo dire che abbiamo finito di modellare il corpo e siamo pronti per passare oltre. Ebbene, siamo giunti alla fine anche di questo video. Vi ricordo sempre che se non volete perdervi i prossimi della serie iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Se vi piace questa serie cliccate sul pollicione così mi scaldate il cuoricino. Per il resto vi ringrazio come al solito di avermi dedicato il vostro tempo e noi ci vediamo nel nostro prossimo video. Arrivedorci!